mia diletta signora mi trovo adesso innanzi una mena finestra di questo cottage donde si scorge una campagna collinosa e si intravede il mare la mattinata è assai bella non so quanto sarebbe agile il mio spirito quale piacere potrei trarre dal dimorare qui se il vostro ricordo tanto non gravasse su di me domandatevi amore mio se non siete stata molto crudele ad avermi avvinto così così distrutto la mia libertà quanto a me non so come esprimere la mia devozione per una creatura di tale bellezza vorrei una parola più fulgida che fulgore più bella che bello vorrei quasi che noi fossimo farfalle e vivessimo appena tre giorni d'estate tre simili giorni con voi li colmerei di tale delizia che cinquant'anni comuni non potrebbero mai racchiudere confessate questo in una lettera dovete scrivermi immediatamente e dite in essa tutto quel che potete per consolarmi fate la densa come una pozione di papaveri per inebriarmi scrivete le parole più dolci e baciatele che io possa almeno posar le mie labbra dove furono le vostre scrivete le informazioni la visite che ci sono bloccati un postanke Meiniktino scrivete le parole alle transplanti e grano mi tre vede su sehen alle volte麵 Melanie